Questa voglia di vincere dei ragazzi, questa fame di gol, abbiamo visto di Francesco l'esultanza sul terzo gol. La squadra prima di scendere in campo nello spogliatoio era molto elettrica, secondo me c'era un pizzico di tensione in più rispetto a quello che dovrebbe essere, ma non negativa, positiva. C'era questa grande voglia di andare in campo e vincerla subito. È un aspetto positivo, ma non ci deve permettere di disperdere poi energie. Adesso una trasferta lunga a Sassari per chiudere l'anno, si spera in bellezza. Adesso ci riposiamo, veniamo da tre partite in una settimana, recuperiamo le energie, andiamo a dir la nostra sperando di migliorare ancora. Comunque lei è soddisfatto? Io sono soddisfatto perché i ragazzi hanno corso fino alla fine, si spendono, vanno, non si risparmiano e credo che debba essere soddisfatto l'ambiente gremonese, i tifosi. Possiamo anche commettere degli errori, però è una squadra che corre, è una squadra che gioca con l'anima e questo è un aspetto positivo. Poi le partite si vincono, si perdono, però credo che il particolare da sottolineare sia questo. Grazie. 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 Grazie.